Ecco il gossip che sta circolando in rete in queste ore sul talent di Maria De Filippi. Amici 19, Gossip, Francesca in crisi con il marito per colpa di Valentin. Amici 19 non è solo un programma di talenti. La stessa Maria De Filippi nel corso degli anni ha ammesso più volte che nel programma nascono e muoiono amori alla velocità della luce. Infatti, in questi giorni, i più curiosi stanno seguendo le vicende avolose di Talisa e Abier. Ma c'è un altro gossip che sta circolando insistentemente da qualche tempo. Pare che la ballerina professionista Francesca tocca sia in crisi con il marito dal mondo togare dal quale ha avuto anche una bambina. Da settimane non si fa altro che indagare sui motivi di questo allontanamento. Si sa che Francesca è molto amata all'interno e all'esterno del programma. Non si contano i momenti di imparato di professori e allievi dopo le coreografie provocanti di latinoamericano di Francesca sul palco di Amici 19. Puntò ad ogni modo ad intervenire sulla crisi del matrimonio di Francesca e Ramon, che hanno una relazione da ben 20 anni e è stato a colso un signorino attraverso il suo settimanale chiuso. La rivista ha ipotizzato che la causa sarebbe Valentin, il ballerino concorrente del Talen, che ha spesso Francesca come partito nelle sue esibizioni. Ma sarà vero? Voi che cosa ne pensate? Il Serale.Valentin è riuscito ad ottenere l'accesso al Serale, anche se nella prima portata è finito al ballottaggio con Paget. Il ballerino è riuscito a trionfare e pian piano si sta abituando a noi pari, a nuove coreografie, a nuovi modi di lavorare e al nuovo palco sopraffitto. Oggi nel pirone del palco troviamo a Tiavier, Nicolai e Talisa, mentre nel circuito del Vento ci sono via, gli Fuglia e Giulia. Le puntate del Serale dedicate alla competizione tra i concorrenti di amici di Ciannoli sono soli. In questo periodo i concorrenti saranno giudicati dal Televoto, una di puntate in diretta, dai professori e dalla giuria di qualità formata da noi, da Anna Bersè, e a Primonte e Vanessa incontrata. Altre tre puntate saranno dedicate poi ad Amici All Stars, un nuovo format che vedrà dareggiare ex allievi e cantanti di successo. Voi che cosa ne pensate di questa nuova organizzazione del Serale di Amici di Maria De Filippi?